bella a tutti ragazzi buon lunedì eccoci qua per un altro video allora sapete che sto facendo gli scatti della marvel bella a tutti ecco il secondo pacchetto mi è arrivato gratis questo così chiuso la collezione poi 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 mi è arrivato dare devil andiamo ad aprirlo eccolo qua tutto il suo splendore dare dare poi 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 adesso lo buttiamo non ci interessa ma i volumetti li teniamo così perché sennò qua spiega piuttosto per dare devil vedete il poster bello mai sono abbonato e faccio finire il proprio pensiero che facciamo tutto non si apre abbiamo il cattivone l'occhi ecco voi l'occhi il cattivone di tor il fratello cattivo di tor ecco qua allora vediamo vedete i piedistali che sono diversi questi qua sono i 4 e 5 infatti abbiamo la 1 2 3 4 e 5 sono un marcello infatti fa vedere qua vedete i lettori gli alfieri i personaggi che sono i personaggi che sono i personaggi che sono possiamo trovare possiamo stare possiamo ritrovare al prossimo ragazzi 6 verranno quattro numeri adesso se non sbaglio o 3 abbiamo capitano americano figo bello con il suo poco a spiega come giocare a scacchi imparerò a giocare anche a scacchi niente questo qua era un pacco inaspettato adesso voglio salutare il mio fratellino del brother gamer 82 un bacione grandissimo nome dolce metà tutti i miei iscritti e le mie iscritte tanti baci stasera ci sarà la live sul mio canale di the disney con il mio fratellino del brother gamer 82 9 e mezza andate a vedere munare che passione mi raccomando andate a vedere mickey burn national tv il tempio del game tanderina oro pure tv e tutti gli altri ragazzi che meritano vi saluto vi mando un mega bacione a tutti quanti grazie sto crescendo sto crescendo grazie a voi grazie veramente di cuore spero di crescere ancora tanto insieme a voi questa famiglia sarà di sempre di più un bacione grande a tutti quanti e a tutte quante a tutti i miei iscritti ci vediamo alla prossima buon lunedì perché poi fa un caldo dalla madonna e ci vediamo presto col prossimo video che dovrebbe essere domani con un box in un gioco sperando che sca domani perché la data me lo dà domani però a ragazzi vi do una una notizia in anteprima ho intenzione di prendere l'invidia shield ho visto i prezzi e ho visto una recensione fatta da un youtuber famoso si chiama quel taleale e su invidia shield c'è da 199 e da 299 299 500 giga 199 da 16 giga memoria espandibile due attacchi usb 3.0 la presa per internet le prese per tutto le prese per tutto e padre sempre in diretta deve sempre venire qua a rompere le palle e chiudiamo questa porta sempre noi ragazzi bella diretta sempre arrivato dal letto e cosa voglio dirvi ragazzi niente poi vi parlerò di questa invidia shield nel prossimo video comunque penso di prenderla perché è un prezzo abbondabilissimo poi fa lo streaming anche dal mac sui giochi che hai su steam poi c'è una c'è netflix tutti i giochi android ci sono tutti i giochi che avete è un'applicazione particolare che giocate ai giochi che sono tutti sul pc non sul vostro è uno store apposta che giocate in streaming dei giochi tipo borderlands, batman, the witcher 3 dovete avere una connessione dai meno meno dicono consigliata dai 13 mega in su perciò chi è inferiore non può strimare e che altro dirvi ragazzi questo mese c'è la promozione che fino al 4 o 10 di luglio danno lo stand per tenerla in alto e il controller il telecomando stavo vedendo un attimino su questa cosa qua dell'invidia shield ci sto pensando magari per il mio compagno ma faccio il canale della mia dolce in età niente ragazzi io vi do un bacione ci vediamo al prossimo video mi raccomando sempre presenti un bel commento un bel mi piace e grazie a tutti di cuore ragazzi bella